Le parole, intese come singole parti di un sistema, non trovano significato al di fuori del loro contesto nativo, ma sono le relazioni che descrivono la realtà. È possibile credere che allenare o allenarsi in contesti che travalicano completamente il gioco e le situazioni reali possono davvero essere utili? Oggi parliamo proprio di questo nel nuovo episodio di Cambio di Campo intitolato Situazionale contro l'analitico. Qual è l'allenamento più efficace? Sigla! Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è Cambio di Campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco. Cosa sta facendo lì? Marco, cosa stai facendo lì? Eh raga, mi sto allenando, mi ha detto che per diventare forte devo fare la forza. Ma dai, ma smette, tu ci credi? Sì, sono qui da mezz'ora, sto diventando fortissimo. Ti sento già più forte. A giocare a schiaccia sette magari. Perché adesso non serve la forca? Dai, vieni qua che spieghiamo il perché. Vabbè, raccontatemi perché davvero io non so, non so più cosa dirvi. E non va bene il pressing a stormo, e non va bene i neroni a specchio. Adesso mi state smontando troppe cose però. Capì, cosa dobbiamo fare? L'altro giorno ho visto un video che era bruttissimo, è gente come te che fa la forca. Io non ci posso credere. Che partenza la forca? Io ho ancora in mente mio nonno quando zappava la terra. Quella è la forca, quella giusta. Va bene, va bene ragazzi. Allora, oggi parliamo di tecnica. Cos'è la tecnica? È la forca. La forca è la tecnica. Abbiamo appena detto, scusi, poverino, vogliamo smontarlo così. Quindi parliamo di come allenare la tecnica con la forca. Quindi rispondici. Adesso tu ti senti più forte, vero? Cazzo, ragazzi, mi hanno detto, fai ogni giorno un'ora di forca, dopo aver fatto... Cioè, perché non potevo farlo subito. Ovviamente sono due anni che faccio tutti i giorni in muro. Ah, ok. E adesso ho fatto lo step in più. No, quello dopo ho allenato con i cinesini. Poi li hai fatti tutti. Dai, dai ragazzi, su, su. Spiegatemi bene come devo andare più forte, dai. I cinesini diciamo che non comprarli, fai un investimento migliore, compra un po' di palloni, guardati un po' di partite. Attiva sti neuroni specchi, ho visto che possono essere utili. Gioca, soprattutto. Sì, gioca, gioca con le persone, gioca in un mezzo al campo, in delle situazioni reali che quelle robe lì ormai sono passate, no? Cioè, ormai la forca l'allenavano quando giocavamo talmente tanto negli oratori. Io no, perché sto un po' giovane. Giocavano talmente tanto negli oratori che in realtà diventavi bravo lì a giocare. Poi andavi al campo, facili la forca. Forse, forse affinavi qualcosa della tecnica. Per quello che si intende di tecnica, eh? Sì, già, perché oggi, pensandoci, quando sin da bambini parliamo di allenare la tecnica, pensiamo a noi in fila indiana col nostro bel pallone e davanti ai cinesini a fare esercizi con i cinesini. Quando in realtà non funzionano proprio così le cose, perché come stiamo studiando, come stiamo vedendo anche negli episodi precedenti, la tecnica e tutto quello che ha a che fare col miglioramento del giocatore avvengono meglio giocando. Quindi con situazioni reali, perché si attivano, come potrete sentire anche negli episodi precedenti, aree del cervello che rendono l'apprendimento molto più funzionale a quello che si fa. Ti stai riferendo enormi a specchio, giusto? Bravissimo, è studiato. È studiato, è studiato. È studiato, però fa la forca. Allora, sta. Però ragazzi, adesso facciamo un passo indietro. Parliamo un attimo seriamente. Diciamo bene cos'è la tecnica, secondo me. Andre, aiutaci tu che sei il più tecnico dei tre. Beh, qui, grande Rizzolatti ci viene in aiuto a tutti e tre, in realtà, no? Perché lui diceva, o meglio, nella neuroscienza si dice che la tecnica sia qualcosa che non esiste veramente. Cioè la tecnica è una specie di abilità motoria, specifica, rispetto al contesto e alla situazione che si crea. Ora, quindi, la tecnica cambia se giochi sul cemento, cambia se giochi sul prato, cambia se guidi la macchina di famiglia o se guidi la macchina per andare a fare una gara. Cioè è totalmente sempre diversa, no? E non è mai generale. Quindi non esiste una tecnica allenabile in un modo che poi viene trasferita in una situazione, ma esiste una tecnica da allenare in ogni situazione. E quindi lì poi si va a scindere allenamento analitico e allenamento situazionale. Ok. Che sono due cose diametralmente opposte. Perché se vuoi, uno, il primo, è un allenamento che tu prendi il gesto tecnico, lo scinde tutto il resto e lo alleni lì per lì. Come tu stavi facendo con la forca prima, si presuppone, in teoria, che se quella cosa funziona, tu adesso sei diventato bravissimo a fare i passaggi al volo. Visto che hai fatto mezz'ora prima lì. Quindi un allenamento che scinde dal contesto del gioco, giusto? Sì, esattamente. Lo tiri fuori, lo destrutturi, lo metti lì e lo alleni. E si pensava una volta che questa cosa fosse allenante, che ci fosse il cosiddetto transfer. Ma stiamo parlando solo di pseudoscienza o è qualcosa che è davvero studiato questo? No, 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 è qualcosa di davvero studiato sia nel pratico, in situazioni empiriche, ed è proprio stato poi teorizzato dalle neuroscienze. Pensate che McGoon, che è un grandissimo allenatore statunitense, che ha fondato una metodologia nuova negli sport di situazione applicato alla palla a volo, lui definisce una cosa importantissima, che è il transfer. Le sue parole sono che, secondo la scienza, serve un approccio sistemico. Quindi allenare nel contesto simile a quello della partita, con le emozioni e le situazioni caratteristiche del gioco. Questo è il motivo per cui la scienza motoria propone di insegnare la tecnica sempre molto vicino alle situazioni in cui dovrà essere applicata l'abilità motoria appresa. Quindi capite che c'è una stretta correlazione tra la parola tecnica e abilità motoria. Certo. Ok, che è sempre specifica. Questo vuol dire, a quanto mi hai appena detto, che allenare la tecnica nel contesto di gioco sia molto più efficiente che allenare il gesto stesso? Sì, sì, assolutamente. Questo, se ci pensate, ha una derivazione da quella che è la finalità. Cioè, se vi ricordate quello che abbiamo detto nell'episodio dei neuroni specchio, dicevamo che l'atto motorio non esiste in sé, cioè non esiste io che muovo il braccio e basta, ma esiste io che muovo il braccio per la finalità. Cioè, per fare qualcosa, per salutare, per fare stretching, per mandarti lontano da me. Beh, quindi la finalità è ciò che attiva la parte neuronale, no? È ciò che fa apprendere davvero quel gesto lì. Quindi parliamo proprio di un apprendimento cognitivo. E com'è possibile allora che ci sono ancora così tanti allenatori e così tanti giocatori che pensano di riuscire a migliorare allenandosi in contesti completamente, appunto, decontestualizzati? Significa che comunque migliora, ma non migliora come migliorerebbe allenandosi nel contesto di gioco? O significa che queste persone proprio non si formano, non si aggiornano e non sanno come sta cambiando il mondo attorno a loro e ancora allenano con un'esperienza che deriva solamente da 50 anni fa? Io credo che siano insieme nelle due cose. Uno perché se ti formi e se ti informi su tutto quello che è il panorama mondiale, certe cose le apprendi. Se invece ti informi e ti informi solo su quello che ti dà la FGC, puoi trovare solo anche formatori che ti danno l'idea dell'analitico soprattutto. Perché purtroppo ancora in Italia abbiamo questa concezione qui. Mentre se guardate, in Portogallo, Spagna, allenano con i rondò fin da bambini. Cioè i rondò, ormai ci siamo capiti, no? Che potenzialità hanno per attivare quello che è il nostro processo cognitivo e la nostra percezione all'interno del gioco. Sì, tra l'altro rondò, ne avevamo parlato nell'episodio del processo cognitivo, avevamo fatto anche una risorsa di approfondimento che trovi nell'articolo del nostro sito web www.cambiodicamp.com e praticamente lì puoi scaricarti l'ebook gratis dove parliamo del rondò anche. Tutto qua. Scusatemi l'intrusione marketing. Sì, ecco, ma riprendiamo proprio quel rondò che è nell'ultima pagina dell'articolo, no? Se guardate quell'ebook lì, lì c'è una serie di fare passaggi, muoversi, smarcamenti, che sono tutti gesti tecnici, che in realtà si allenano in maniera situazionale, in situazione, nel gioco. Sei continuamente sottoposto a un gesto tecnico che è quello del trasmettere e ricevere palla, quindi lo stai allenando, però lo stai allenando non con uno davanti all'altro e ve lo fate 3000 volte, che oltre a far annoiare il bambino, e sfido chiunque a dirmi il contrario, perché può sorridere quanto vuole ma non vuol dire che si sta divertendo, non riesce a trasferire l'apprendimento nella situazione vera del gioco. E bisogna tenere presente che qui non si sta allenando bambini e ragazzi per fare i giocolieri. Infatti, ragazzi, a me viene da piangere perché io sto pensando ai miei dieci anni di scuola calcio dove mi hanno messo a dribblare un paletto di plastica piantato nel terreno. E adesso, io pensandoci... Ecco, la roba del paletto, secondo me comunque è una cosa che funziona, il problema è quanto funziona o quanto funziona meglio o meglio rispetto a qualcos'altro, perché anche riportandolo nel mondo dei comuni mortali, che non sono tutte queste cose, quindi nel mondo del lavoro, per esempio nel mondo del marketing ci sono società di calcio, ci sono organizzazioni che ancora pensano di attirare bambini con i volantini. Cioè, voi pensate nel 2019 andare ancora a distribuire volantini nei parcheggi, ma chi riguarda? Ma chi riguarda? O prendere i cartelli stradali, ma chi riguarda? Ragazzi, dobbiamo aggiornarci. E quindi è un modo, anche secondo me questo, di quello che vi dite voi, no? Cioè, alla fine bisogna fare gli investimenti. Investimento in tempo è uguale, uguale, all'investimento di denaro. Quindi investire mezz'ora di allenamento, che poi alla fine mezz'ora di allenamento vuol dire, cos'è, un sesto totale dell'allenamento di una settimana per qualcuno, no? Tantissimo. Giusto? Perché se ci pensi, molte società fanno due allenamenti, soprattutto per i più piccoli, per cui 30 minuti di un allenamento di un'ora e mezza, di solito un'ora, un'ora e mezza, immagino adesso non mi ricordo quanto fate voi, è un investimento altissimo ogni settimana. E poi se ci pensi, magari sono allenatori che lo fanno anche tutte e due, mezz'ora in tutte e due le sessioni di allenamento, per cui, cioè, vuol dire proprio buttare via il tempo, come buttare via i soldi, usare i volantini, no? Cosa senti la cosa, secondo me? Sì, esattamente. Qui stai ragionando in termini di efficienza, che poi è quel transfer che McGoon citava, no? Più alta l'efficienza e più è utile l'allenamento che stiamo facendo. È chiaro che, ragazzi, la risorsa più grande che noi abbiamo e non abbiamo è il tempo. Cioè, si gioca a calcio per vent'anni e si impara il calcio per vent'anni, dopo quei vent'anni lo puoi imparare ma non lo applichi più. Cioè, che senso ha perdere tempo a fare due allenamenti a settimana di tecnica, analitica, quando abbiamo capito che non serve? E se ancora non abbiamo capito che non serve, e se ancora non bastiamo noi per dirvi che non serve, e magari non basteremo se avete le idee così ben fisse, informatevi, ma non informatevi solo su quello che serve a voi, quelle che sono le vostre idee. Cominciate ad aprirvi a capire quali sono le idee degli altri, cominciate a capire perché lo fanno. Va bene, tante belle parole giuste, giustissime, però io non ho ancora capito come a un mio giocatore posso insegnare a non dribblare un paletto ma a migliorare, per esempio, il dribbling. Allora, non c'è una ricetta assoluta. Questa è una cosa bellissima perché poi in realtà così tutti noi allenatori sperimentiamo, però ci sono delle indicazioni che possiamo seguire che è farlo giocare. È chiaro che non è che prendi e lo butti dentro in campo. Una delle cose che mi viene in mente è se tu vuoi allenare quello che è un gesto tecnico o almeno così definito dalla FIGC, perché non fare una partita in cui gli chiedi che il passaggio vale solo all'indietro? Se l'obiettivo è quello di far gol, quindi la finalità l'ho lasciata uguale per andare in avanti e devi condurre palle e scartare e dribblare. Quindi in realtà stai facendo quella cosa. Ecco, ma tipo adesso mi è arrivata questa idea qui, no? Perché quando io giocavo c'era sempre il problema di fare lo stop bene perché anche mio papà mi dice sempre quando fanno i gol e fanno i gol stop e tiro velocissimo, dici tutto il segreto è lo stop. Perché quando riesci a far lo stop giusto poi è tutto più facile. Quindi parliamo di stop orientato, no? C'è un modo anche per allenare questa cosa qua? Sì, ti metto in una partita e ti dico gioca se possibile senza giocare di prima. Che cosa succederà? Che il tuo giocatore comincerà sempre a stopparla, si attiverà una pressione, tu per andare via da quella pressione dovrai orientare sempre il controllo, quello è il modo di allenare lo stop orientato in una partita. Poi puoi giocare con la condizione numerica, più si è e meno si è, più toccherai palla e meno toccherai palla. Però è anche vero che non è che è così sbagliato lasciare i numeri grandi a volte, perché è vero che non alleni lo stop orientato ma se ne allenano di cose guardando, ormai da prendimento per imitazione abbiamo capito cos'è e quanto è utile. Quindi voglio dire, non abbiamo paura di non avere le cose sotto controllo. Lasciamo anche che il gioco faccia esplorare i nostri giocatori e si apprendano ancora più cose di quante noi non pensiamo. Allora ragazzi, arriviamo, facciamo un sunto di quello che è stato l'episodio di oggi. Abbiamo parlato di tecnica ma abbiamo smontato quella che è l'idea di tecnica che si è pensata negli ultimi 70 anni di calcio. Quindi fatemi passare il termine, il rapporto pallapiede, chiamiamolo così. Abbiamo quindi parlato e nominato una parola che su me è chiave in questo episodio che è la parola transfer. Quindi il passaggio, l'apprendimento che c'è dietro delle parole di un allenatore, di un istruttore. Detto ciò, Andre, se sei d'accordo, io lascerei ai nostri spettatori e ascoltatori un qualcosa di pratico, un qualcosa su cui parlando soprattutto per i mister, possono lasciare i propri giocatori. Sì, voglio ricollegarmi con la cosa del transfer che hai detto. È vero, è quelle informazioni che passa le parole dell'allenatore ma anche i fatti. Cioè se il nostro allenamento è basato solo sulle parole probabilmente daremo il 10%. Se diamo parole più dimostrazione probabilmente daremo qualche percentuale in più. Se diamo parole più dimostrazione più proviamo a farlo fare diamo ancora di più. Ma non basta, perché nella situazione reale, per ricreare quella situazione reale che ci siamo detti essere la chiave per far apprendere meglio, per avere più transfer. Ed è con questo che lasciamo, queste sono le cose che lasciamo in mano al nostro ascoltatore. Sì. L'allenamento deve essere orientato con compagni, con avversari e con palla. Queste sono quattro pilastri fondamentali. Ecco, poi magari su questo ci facciamo una bella risorsa a scaricare o comunque qualche approfondimento, magari un altro episodio, eh. Perché detto così magari sembra semplice ma c'è un monte tra questi quattro pilastri. Ecco. Va bene ragazzi, io adesso torno a far la forca, ma intanto prima di torno a far la forca ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che ci possono scrivere su Facebook, Instagram e YouTube. Tra l'altro su YouTube possono anche ascoltarci insieme a Apple Podcast e Spotify. Ci trovate praticamente dappertutto come cambio di campo, non potete proprio sbagliarvi. E niente, ripeto ancora, buona forca, guardatemi buona forca ragazzi. Te l'abbiamo già nascosta. Ah ragazzi, vogliamo anche dirvi grazie per i numerosi feedback che ci stanno arrivando per messaggio, via recensione di Facebook e tramite Apple Podcast. Ci state dando tantissime idee nuove su come andare avanti per voi e non smettete di farlo perché ci date una grandissima energia. Grazie. Ecco l'ultima, ultima cosa. Scusa, scusa. Velocissimo. No, hai già attaccato. Devo ringraziare anche tutte le persone che hanno scaricato gli ebook precedenti e che ci hanno detto che è una cosa che gli sta tornando utile e nulla. Quindi grazie che ci state dando fiducia. Speriamo di ripagare questa fiducia che ci state dando. Grazie.